Si chiama Melanie Roberts, è una signora anziana costretta a lavorare nonostante la sua veneranda età. Infatti ha 71 anni di età ed è riunito vicino a Slythwaite, da West Yorkshire. E pensate che è costretta, ripeto, a lavorare perché con la sua pensione non riesce a coprire le spese che ci sono. Sono spese comuni, quelle di tipo standard, standardizzato. E oltre a fare questo è costretta addirittura a tenere le luci spente nella sua casa, nel suo nido domestico, e a dormire con l'avvenenza di otto coperte. Perché? Perché non riesce ad andare avanti. Cerca, vuole, vorrebbe risparmiare, ma purtroppo è molto, molto complicato, è molto, molto difficile. La pensione infatti è che lo Stato l'eroga, non riesce a essere utile per lei, non riesce a coprire le spese, e pensate che è costretta ad agire in questo modo. Questa vicenda, questa storia, mi ha colpito perché? Perché ci fa capire questa storia che a volte le spese economiche sono talmente troppo elevate, tanto elevate, che una persona non riesce nemmeno ad affrontarle, ad affrontarle. Bene, anzi male, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione. Il video termina qua. Iscrivetevi al canale Narrato Italiano, commentate. Ciao a tutti, una buona giornata a voi.